La domenica calcistica è alle porte e il menù per i buongustai del pallone nostrano è quanto mai ricco. Iniziamo dalla Serie D con il cartigliano che affronta in casa il Montebelluna, una bestia nera per i biancazzurri, reduci dall'ottimo pareggio nel turno infrasettimanale contro l'Union Feltre. All'andata finì 1-1 con il gol al 94esimo di Di Gennaro al termine di una gara dominata dai ragazzi di Ferronato. Cartigliano imbattuto in questo 2020 con 37 punti in classifica proverà a difendere il terzo posto dall'assedio di Union, Claudian Sicchioggia, Ambrosiana e una sfilza di squadre appaiate a quota 34. Tra queste pretendenti spunta con forza la luparense, reduce da due convincenti vittorie contro Este e San Luigi. Allo stadio Cazè arriva il Tamai, fandalino di coda ma capace di fermare i lupi all'andata. Enrico Cunico potrà contare sulla rosa quasi al completo sfruttando l'eccezionale stato di forma di Moras e Camarà. Vincere vorrebbe dire fare filotto, nove punti in sette giorni per lasciarsi alle spalle le insicurezze e per guardare con fiducia alla zona playoff. In promozione, girone B, la capolista Schio proverà a tenersi alle spalle il Bassano vincendo il match con Longare, mentre i ragazzi di Francesco Maino sono chiamati a una sorta di derby tra quasi fratelli contro il football Valbrenta. Rosa e Marosticense proveranno a dare continuità al loro eccezionale cammino dell'ultimo mese contro Unione, La Rocca, Altavilla e Montebello. Nel girone C, testa coda tra la corazzata San Giorgi in Bosco e l'Unione Graticolato. La squadra di Moreno-Visentin vuole bissare il rotondo successo dell'andata e provare l'allungo sul Cadoneg secondo, impegnato nel match clou contro il Saunara-Villatora terzo. In prima categoria, fari puntati sul match Eurocalcio-Salvatronda. I cassolesi, primi a più quattro, vogliono centrare la dodicesima vittoria stagionale, forti del ritorno al gol di Bomber a Irulai. La Fontanivese, seconda, sarà infatti chiamata all'impegno più caldo di giornata nello scontro diretto con il Carmenta terzo. Chiudiamo con la seconda categoria, Colceresa-Stella Azzurra-Sant'Anna e Virtus Romano-Real Stroppari. Sono due gare che sulla carta potrebbero valere tre punti importanti per i Rosatesi e gli Ezzellini. Tutte e due sono all'inseguimento del Tezze sul Brenta, impegnato con il Transvector. Vai, 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 l'ultimo, 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 vai, dai, dai, dai!